Buongiorno a tutti, benvenuti alla consueta conferenza stampa di fine sessione di mercato con il direttore sportivo Sean Sogliano. Cominciamo pure con il quotidiano L'Arena, Gianluca Tavellin. Grazie. Buongiorno, ciao direttore. Ti chiedo subito una cosa. Da quale, chiaramente mi risponderei da tutti, però da quale nuovo arrivato, acquisto che hai preso adesso a gennaio, ti aspetti qualcosa in più? Cioè, secondo te, chi può essere il nuovo Ngong, chi può essere il nuovo Duda, se pensiamo ai ragazzi che erano arrivati l'anno scorso? Ma guarda, diciamo che voglio fare una precisazione in base alla domanda che mi hai fatto. Abbiamo cercato di fare delle valutazioni e cercare di portare dei ragazzi che magari in questo momento per la maggior parte devono ancora esplodere, devono ancora farsi conoscere da grandi palcoscenici, nonostante sono ragazzi che hanno avuto esperienze diverse, ma già di categorie importanti, perché anche i più giovani giocavano in Serie A, sono ragazzi che sono venuti con grande entusiasmo, e sono giocatori che si vede da come si allenano, vogliono farsi conoscere il più possibile dai tifosi veronesi e sicuramente hanno sposato questa linea che la società ha preso per vari motivi, uno sicuramente sostituire dei giocatori che sono usciti da questo mercato, ma con delle caratteristiche diverse, soprattutto economiche, soprattutto di ingaggi, però io penso che in questo momento il club non è stato a metà su quello che doveva fare, ha preso una linea ben precisa, probabilmente rimanere a metà del guado non avrebbe risolto niente, invece noi penso che abbiamo scelto una linea di sposare questa campagna vendite, inserendo dei ragazzi giovani che hanno entusiasmo, io penso che alcuni di loro faranno vedere che anche in questo modo la squadra può lottare fino alla fine, non è che non voglio farti un nome, perché non voglio togliere importanza a nessuno, perché per noi questi ragazzi sono tutti importanti, poi le mie idee sui certi hanno già esperienze, perché anche l'attaccante ha già giocato a livelli di nazionale polacca, lo stesso Vinagre ha giocato in Premier League, quindi sono giocatori che molti hanno già calcato dei palcoscenici e delle categorie importanti, poi ci sono dei ragazzi giovani, dei ragazzini che secondo me Verona sarà contenta di averli presi, e in futuro daranno le soddisfazioni. Ecco Sean, qualche anno fa, e la cosa mi faceva sorridere, perché era il primo anno di Serie A, con Tony, Turbe e compagnia cantante che erano esplosi, parlando con te e con l'allora direttore generale Gardini, mi dicevate abbiamo un piano per la Serie B, eravamo ampiamente salvi a febbraio quell'anno, ti chiedo se con la società avete questo piano per la Serie B, che darebbe un discorso di continuità al club, e poi anche per non sbagliare, visto che comunque hai visto i contratti, se più o meno la cifra che è stata incassata al netto delle entrate, e non soltanto delle vendite, è attorno ai 45 milioni di euro. Grazie. Io penso che, come ti ho detto adesso, la linea presa dalla società è stata una linea per sistemare e migliorare la forza economica di questo club, penso che delle vendite che ci sono state, sono state importanti, per dare solidità al club, e questo cosa vuol dire? Che quando un club è sano ed è solido, qualsiasi cosa succede ha la capacità di, tra virgolette, di cadere in piedi, questa è stata la nostra priorità. Io penso che in questo momento, forse l'hanno dimostrato le prestazioni di queste ultime due o tre partite, sicuramente i punti no, ma le prestazioni è di una squadra che non è arresa, di una squadra che non ha alzato bandiera bianca, ci mancherebbe altro, perché la classifica dice che siamo in difficoltà, che ci sono squadre che attrezzate per salvarsi, ma dice anche che in queste partite, in questo girono di ritorno appena iniziato, mancano ancora tante partite, quindi nonostante probabilmente abbiamo una squadra tra virgolette disconosciuti, è una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine. Questo l'ho detto l'anno scorso quando sono arrivato, lo ridico quest'anno, sarà una squadra che lotterà fino alla fine, fino all'ultima giornata, per fare un'altra grande impresa, quindi penso che le cessioni che sono state fatte, innanzitutto sono state fatte anche perché penso che i giocatori che devono rimanere a Verona, io questo l'ho imparato da tanti anni, non bisogna tenere giocatori che vogliono andare via, soprattutto quando si lotta per la salvezza, senza andare nello specifico, sono tutti ragazzi che ognuno può pensare, può avere delle occasioni, però alla fine il gruppo più vincente è quel gruppo che nasce quando una squadra e dei giocatori, come priorità è cercare di salvare questa squadra dalla categoria, se uno pensa già ad altre cose, anche in buona fede, il suo rendimento non è più lo stesso, e quindi proprio per questo motivo, al di là di una, se dobbiamo andare ad analizzare un po' tutte le uscite che ci sono state, forse il giocatore che più voleva rimanere alla fine era in gongere, perché è un ragazzo che voleva finire l'anno, però come potete ben capire è stata un'operazione dove è probabilmente impossibile da non accettare, da non portare avanti sia per il club sia per il ragazzo, le altre uscite sono state di ragazzi che hanno fatto la loro parte, però anche nel rendimento rispetto all'anno passato era differente, e c'è stata la volontà di andare, quindi alla fine, ripeto, stare nel mezzo non so se avrebbe giovato, quindi allora abbiamo sposato una linea, chi ha voluto andare è andato, i conti sono stati sistemati, adesso diamo forza anche a questi ragazzi perché ci devono rappresentare, ci devono far riscattare quella scintilla che può servire per fare più punti. Sì, i numeri sono poi delle vendite, poi dopo ci sono delle, in base alle plusvalenze sono di meno, perché certi giocatori sono stati comprati, però i numeri delle uscite sono quelli. Davide Cailotto, Telearena. Ciao direttore, buongiorno. In parte hai già risposto, però anche per fare chiarezza una volta per tutte, anche per i tifosi, cosa ti ha detto Setti quando è iniziata questa, come l'hai chiamata tu, campagna di vendite, perché qua non si era mai visto una rivoluzione così, soprattutto a gennaio, cioè qual è l'obiettivo che ti ha detto di perseguire a gennaio? Un obiettivo che per vari motivi quest'estate non è stato portato avanti, anche perché il mercato lo fanno le richieste. È naturale, ma non c'è neanche niente da vergognarsi, se una società prende coscienza della propria situazione economica, e deve migliorarla per evitare delle problematiche che il club possa avere in futuro. e se tu mi chiedi, a un certo punto mi sembrava che io preferivo quasi spegnere i telefoni per non ricevere richieste da parte di altre squadre, e più era così per i nostri giocatori, e più arrivavano richieste. Non ti nascondo che abbiamo rifiutato anche due o tre altre offerte per i nostri giocatori. Perché? Perché quando abbiamo raggiunto un equilibrio dove la società ha trovato respiro vendendo dei giocatori, se tu mi chiedi se sei stato contento di vendere un gonge, è normale che io non sono stato contento di vendere un gonge. Se tu mi chiedi cosa è servito vendere un gonge, penso che sia difficile accettarlo da tifoso, però io trovo anche un senso di orgoglio di avere dato la possibilità, con un giocatore preso tra gli sconosciuti, di risolvere, o almeno in gran parte, delle grosse problematiche amministrative che c'erano nel club. Quindi non puoi rifiutare un'offerta per il gonge a queste cifre. Poi il ragazzo sicuramente è un ragazzo che vale, purtroppo ci ha fatto gol anche a noi, capisci, il destino a volte ti porta davanti a delle emozioni incredibili. Però ripeto, cosa mi ha detto il Presidente? Il Presidente mi ha detto molto chiaramente, dobbiamo rientrare di costi che io ho sostenuto, che la società ha sostenuto nel passato, perché io non voglio trovare sempre a parlare del passato, però non è che di punto in bianco il Verona si deve mettere a vendere i giocatori perché c'è stata una perdita immediata. Questa situazione, secondo me, ma lo dico in maniera molto serena, è stata figlia di due o tre anni, dove probabilmente la gestione del Verona è stata superiore alle proprie possibilità. Come? Anche godendo, perché quando vedi giocatori importanti che però guadagnano milioni, in campo vedi di giocatori a un livello alto, però dopo alla fine bisogna portare avanti anche l'amministrazione, anche i conti, che in questo momento qua stava diventando pericoloso. Allora bisogna avere anche, tra virgolette, scusate l'espressione, anche le palle di metterci la faccia e di dire cosa facciamo? Abbiamo fatto una situazione dove sono stati venduti dei calciatori, sono stati sostituiti da ragazzi giovani, ma non pensate che i ragazzi che sono venuti siano tanto inferiori, anzi, a certi che sono andati via. Forse non sono meno conosciuti. Forse bisogna vedere che impatto avranno in un campionato di metà, scusa, a metà campionato di una classifica pericolosa, con squadre molto forti, con squadre molto potenti, con società che hanno investito. Questo è il punto difficile. Ma io che vedo gli allenamenti di tutti i giorni, non pensiate che i ragazzi che sono arrivati siano inferiori a chi sono partiti. Questo non è così. Poi dovremmo dimostrarlo, poi ci sono tanti variabili, ci sono tante situazioni che... ma io penso che è una bella sfida sistemare quello che abbiamo sistemato e essere ancora qua a dire proviamoci. Penso che sia un grande orgoglio, ma anche una grande sfida che tutti noi dobbiamo avere la voglia di affrontarla. Una cosa te la chiedo, sempre per fare chiarezza, su Manolas, se ho capito bene, era stato cercato, dovrebbe andare alla Salernitana, mi pare che insomma i tempi siano maturi, è stato effettivamente cercato, ti manca un difensore centrale o la situazione è a posto così? No, guarda, la situazione è molto chiara. Noi siamo una società che io penso che deve dimostrare coerenza, soprattutto in questo momento, e avere le idee chiare. Manolas è un giocatore importante, ha fatto tanti anni di Serie A a livello molto alto, tra Roma, Napoli, poi ha fatto un'esperienza estera in un campionato meno competitivo, ma diverso, io ho parlato con Manolas, non c'è niente di male nel dirlo, ma proprio per la coerenza che dobbiamo avere in questo momento qua, che è un obbligo per questa società in questo momento qua, anche perché sono usciti dei giocatori perché avevano degli ingaggi alti, quindi anche per questo motivo, non solo nelle vendite, ma anche in certi giocatori c'è stata questa impellenza, che certi giocatori che guadagnavano determinati contratti non erano più in questo momento qua sostenibili. Proprio per questo noi abbiamo parlato con Manolas e fatto anche una proposta a Manolas, ma senza perdere la coerenza, perché non avrebbe senso far uscire dei giocatori perché guadagnano tanto e poi prendono i giocatori che nelle sue scelte non rientrano nei nostri parametri. In questo momento qua non possiamo dare degli ingaggi di questo tipo non a Manolas, a qualsiasi giocatore e quindi penso che Manolas abbia fatto un'altra scelta visto che è andato a Salerno, che probabilmente è una società che può permettersi di dare ingaggi diversi. Matteo Fontana, Corriere di Verona. Ciao, buona giornata Sean. Ti chiedo, facendo un riassunto di quello che già è stato detto, in realtà proprio di rimarcarlo in maniera precisa. La domanda è questa. Il Verona ha netto di tutta questa rivoluzione che c'è stata, che è dettata da fattori in primis economici che poi sono tradotti in scelte tecniche successive. Si può dire che adesso il Verona ha la sicurezza economica che invece era fortemente a repentaglio, a prescindere dalla categoria, naturalmente l'augurio per tutti di restare dove è il Verona che si salvi, però a prescindere dalla categoria il Verona era a repentaglio prima di questa sessione di mercato la sua continuità di club e invece a prescindere dalla categoria adesso invece c'è questa sicurezza, c'è questa garanzia? Guarda, io non sono un amministrativo, sono a conoscenza della situazione, io penso che questa domanda ci sarà il momento perché tu la possa fare al Presidente o al Direttore Generale, di sicuro quello che avevamo fatto ha dato una grande mano a un club, ma questo è normale che sia così, poi dopo io penso che un club debba continuare a ragionare in un certo modo, perché non è che una finestra di mercato, seppur importante dal punto di vista dei numeri, possa risolvere eternamente le sorti di un club, penso che bisogna sposare una linea, la linea che secondo me, parlando per la mia esperienza che ho qua nel Verona, la linea che io avevo e noi società avevamo, quando ho fatto dieci anni fa ero il Direttore Sportivo del Verona con l'allenatore Mandorlini, ma la nostra linea era che se tu ricordi bene i giocatori che facevano la Serie A erano i Morase, i Maglietta, i Romulo, i Raffaele, i Juanito, questi ragazzi qua che hanno dato tanto, però non erano i giocatori, ripeto, non erano i Simeone, non erano i Caprari, che sono ottimi giocatori, ma vengono dati percorsi diversi da quelli che avevamo noi in quegli anni lì, perché salvo due crack che erano Tony e i Turbe che lo è diventato con noi, perché quando è arrivato qua era un ragazzo di belle speranze, ma lo è diventato qua, noi abbiamo fatto la Serie A con questi giocatori qua e sputtavamo l'anima ogni partita, e questo è che dovremmo fare oggi, noi abbiamo dei giocatori che devono sputtare l'anima e dare tutto, ma questo non vuol dire che ci possano portare è lo stesso delle soddisfazioni, certo sarà dura, molto dura, però è così. Ne accennava già il collega, la questione che poi è anche quella che evidenzia in maniera indiretta il mister Marco Baroni è quella del tempo, che è breve per amalgamare, per creare una sincronia, dicevo che ne hai parlato prima, ne hai accennato prima, questa rivoluzione, che dal punto di vista tecnico sicuramente è da valutare, non si può dare un voto al mercato di Verona, per me è un punto di domanda, non sappiamo poi dove si arriverà, ma perché non è stata anticipata in estate quando magari c'erano delle premesse, non so, economiche, perché poi i conti saranno emersi quando ci lo chiarirà il Presidente, il Direttore Generale, perché non anticipare in estate quello che si è fatto in inverno? E poi è una domanda un po' alla Caterano, però così è. No, 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 domanda intelligente, ma io ti dico quello che penso, probabilmente ci sono state delle dinamiche che, ripeto, su certe cose io non devo essere io a, ma non perché non mi voglio, se mi conoscete, mi piace parlare di tutto, perché io faccio questo lavoro qua a Verona, perché ormai c'è un sentimento che si mette davanti anche al proprio lavoro, per questi colori, io penso che determinate situazioni in estate, diciamo, nel mercato estivo presupponevano probabilmente l'entrata anche di un gruppo o l'entrata di un socio per il Presidente o di una situazione che potesse cambiare a breve, cosa che poi non c'è stata. Questa è la cosa sicuramente che poi per, tra virgolette, colpa di nessuno, non è anche colpa forse per come sono andate le cose, probabilmente in quest'estate poteva succedere qualcosa che in questi mesi ad arrivare a novembre, dicembre, avere un cambio che poi non c'è stato, o avere un cambio, o avere dei rinforzi, diciamo, come dentro la società, che non c'è stato, prima cosa. Seconda cosa, bisogna anche dire la verità, cioè, il fatto che il Verona è stato al centro del mercato perché alla fine ha venduto tanti calciatori e le offerte sono arrivate quest'inverno e non sono arrivate quest'estate, se non per un'offerta che è stata rifiutata per ienne l'ultimo giorno di mercato, ma è stato rifiutato perché l'ultimo giorno di mercato è stato pensato che non era possibile, scusate, non era possibile, può essere, certi mercati sono aperti, infatti, no, non era possibile accettare un'offerta arrivata all'ultima ora e il fatto non è stata accettata, ma, come sempre succede, quando un giocatore ha una richiesta deve andare, perché dopo anche il rendimento di Iene, che è un ottimo giocatore, non è stato, in questo giorno di andata, come l'anno scorso, e poi penso che l'avete notato anche voi, un po' per infortuni, un po' per, quindi, sicuramente, col senno di poi, bisognava ragionare diversamente e vendere Iene in quest'estate. Gianluca Vighini, Telenuovo. Gianluca, qual è stato il momento più difficile di questo mercato? C'è stato un momento, no, che sembravamo un po' sbandati alla deriva, non so se tu hai sempre avuto questa capacità di tenere la barra dritta, ma se c'è stato un momento, qual è stato questo momento? Ma, ti dico, noi, su certi giocatori, quando abbiamo ricevuto delle offerte, penso che era giusto prendere questa decisione, di lasciarli andare, anche perché bisogna essere, a volte, se si ragiona emotivamente, ti lascia un po' prendere, quando ragioni in maniera un po' più cruda, vedi anche quello che si stanno dando nel momento, cioè, anche vari giocatori sono andati via, però bisogna anche capire, che sono degli ottimi giocatori, però bisogna anche capire il contributo e il rendimento che stavano dando durante l'anno, che davanti a delle offerte economiche, non penso che qualcuno può pensare che se non andassero via, non fossero andati via la classifica di tutto. Per essere chiaro, secondo te, se in gongia rimaneva qua, a fine stagione lo vendevamo a più soldi? Penso che l'offerta in gongia, allora, se tu mi dici, dal punto di vista, ma non perché in gongia o non in gongia, io dico che su un gongia, devo dirti la verità, quando ci siamo resi conto che veramente è un giocatore che sarebbe uscito, lì un pochino ho traballato. Perché? Perché per noi, ma non tanto per i gol che fa, ma anche perché caratterialmente è un ragazzo che stava entrando sempre di più a prendere un po' in mano non dico lo spogliatoio, però il gruppo, anche gli altri giocatori vedevano in lui quello che poteva risolverti la partita, quindi diventi importante per un club e anche per lo spogliatoio, però ripeto, è un'operazione che una squadra non può rifiutare, quindi al di là del dispiacere devi andare dritto, devi essere professionale, farlo, altri giocatori sono usciti però secondo me faranno sicuramente bene, ma il rendimento che hanno tolto è più facilmente sostituibile. Sono rimasti solo due giocatori che volevo chiederti proprio specificamente, perché hai detto sono rimasti tutti molto volentieri, chi è rimasto lotterà. Mi parli di Henry e Bonazzoli che per un motivo o per l'altro forse pensavo che potevano uscire insomma perché per tanti motivi, uno magari caratteriale l'altro perché ha magari più bisogno di giocare. sono qui e Baroni ci conta su questi due giocatori? Sì, tutti e due hanno un percorso diverso come hai detto tu. Henry è un giocatore che sappiamo bene che viene da un'annata e da un infortunio pesante e nonostante abbia fatto dei gol, tre gol con noi, tre mi sembra, che in teoria gli hanno dato una botta di adrenalina importante, lui anche se è difficile accettarlo per un calzatore l'anno dopo il crociato lui ha avuto un crociato complicato anche ha degli alti e bassi fisici che magari lo giocatore a volte non si rende conto quindi davanti alla sua voglia di giocare con più continuità ci sono dei momenti dove il giocatore è pronto per giocare e altri momenti che non lo è nonostante un giocatore non lo capisca questo ma è una cosa normale dell'anno post infortunio c'è stata la possibilità per lui un'offerta di andare in Belgio al Ghent e i suoi agenti ce l'hanno portata e volevano che lui andasse non è potuto non è successo perché questo non era possibile andare all'estero in prestito perché erano già esauriti il numero dei prestiti all'estero che ha una società a disposizione da parte nostra quindi l'alternativa era o andava definitivo oppure poteva andare a giocare in Italia e al Ghent non è andato per questo motivo e l'ultimo giorno di mercato ha avuto anche una possibilità di andare a Salerno cosa che noi abbiamo detto no il giocatore rimane con noi ma questo vuol dire che io ho parlato chiaramente con il ragazzo gli ho detto esattamente la verità il ragazzo si deve rimboccare le maniche è un bravissimo ragazzo molto sensibile a volte troppo secondo me ed è uno degli attaccanti dove i gol devono uscire da qualche parte speriamo che qualcuno ce ne faccia ancora lui Bonazzoli anche lui è un ragazzo che ha una testa particolare per me è un bravo ragazzo però vive con se stesso una situazione complicata perché non è mai contento sicuramente gioca poco sta giocando poco penso che la chiusura del mercato sia manna dal cielo per la sua testa perché adesso lui deve pensare solo a due cose prima poteva pensare a tre o quattro o cinque se non giocava adesso può pensare a solo due cose otto alleni a centomila all'ora e forse l'allenatore qualche minuto in più te lo fa fare otto alleni male e guardiamo l'orogio e tra cinque mesi torno indietro quindi io spero che sia la prima però dipende da lui Francesco Galvagni tutto mercato web buongiorno direttore ti chiedo solamente se il mercato deve considerarsi definitivamente chiuso o se si può travagliare qualche possibilità degli smincolati magari in difesa dove c'è la coperta un po' corta ma mai dire mai nella vita perché tanto ormai i mercati ce ne sono aperti chiusi un casino ma no non lo so io ti dico io sono molto sereno perché una volta presa una strada bisogna portarla avanti è inutile a volte ci sono sempre dei ripensamenti su quello che si poteva fare non si poteva fare noi abbiamo fatto il massimo che potevamo fare e da punto di vista difensivo ripeto in questo momento qua noi abbiamo tre centrali più cabal che un centrale quindi i centrali sono a quattro è normale che giocando con la difesa quattro numericamente è normale poi dopo ci saranno oggi ci siamo tutti poi ci sono le infortuni poi ci sono le squalifiche però io penso che può capitare che magari ci viene un'idea e la portiamo avanti su un giocatore in questo momento qua è senza contratto ma può anche capitare che magari da qua alla fine del campionato può esordire un giovane della primavera un difensore centrale della primavera quindi noi lavoriamo per questo monitoriamo tutto però l'importante è avere coerenza come penso con tutti i nostri problemi però questo lo stiamo dimostrando